Non guardo la vicenda sul piano personale, mi interessa poco quello che ha da dire di me, una persona che disistimo profondamente come Oliviero Toscani. Mi colpisce la mancanza di rispetto verso le donne nel loro complesso, che devono sempre rendere conto solo ed esclusivamente del loro aspetto fisico, di qualunque cosa si occupi. Io mi occupo di politica, non faccio le passerelle. Eppure non interessa a nessuno che cosa io politicamente abbia da dire, perché deve interessare come mi presento fisicamente, tipico della misoginia. E poi il fatto di dare in modo dispregiativo del ritardato a qualcuno, facendo riferimento a chi soffre di disturbi psichici, beh, questo è tipico delle persone miserabili oggettivamente. Quindi, secondo lei, ad un uomo, sia in politica che non, non si sarebbe detto come offesa che è brutto? Lei l'ha mai sentito fare? Ha mai sentito dire agli oggettivamente molti uomini, diciamo non esattamente paragonabili a George Clooney, che ci sono nel nostro panorama, che venivano giudicati per il loro aspetto fisico. In alcuni casi possono essere giudicati come qualunque essere umano, per alcune loro particolarità, o magari per un TIC, per una cosa particolare. Ma io non ho mai sentito i miei colleghi doversi giustificare di quanto erano spendibili sul piano dell'aspetto fisico. Io sono sempre, francamente, molto restia quando si tratta di fare leggi su questi temi, perché rischiano di essere anche leggi sul reato d'opinione. È sempre molto difficile normare questa materia. Basterebbe, diciamo così, che la risposta in questi casi fosse unanime, soprattutto quando arriva da parte di un esponente della cosiddetta intelligenza. Grazie a tutti.